Rimango, ripeto, sono basito pure io, ma sono tre volte basito perché ogni tanto sento, quando ascolto la rassegna stampa su Radio Radicale, che è molto comodo perché così non compro più nessun giornale, però poi subito dopo c'è sempre la diretta di Fiamma Nirestein da Israele, la quale una volta ha detto, allora ho retweetato mille volte, ha detto questa è la guerra più giusta che sia mai stata combattuta. Allora come fa un illustre giornalista della stampa a dire una cosa del genere come se nulla fosse la guerra più giusta che sia mai stata combattuta? Pecciolini Network, sai che non ti deluderà, Pecciolini Network perché padroni non ne ha, verso i social e i canali con i suoi ospiti speciali, Pecciolini Network non ti deluderà.